Nuova chiusura forzata per le piscine e le gemelle di Lanciano. Cancelli serrati e sospese le attività anche in sala attrezzi. Dopo che il gas è stato staccato per morosità, può essere che lo stesso avvenga anche per l'elettricità, visto che si tratta dello stesso fornitore. La struttura di proprietà del comune di Lanciano è costata 3 milioni di euro, ma gravi situazioni create dall'attuale gestore, lamentano associazioni e fruitori dell'impianto sportivo, hanno portato le piscine semiolimpioniche a una lenta agonia. All'interno si trova anche una palestra e un bar, si tratta insomma di un impianto sportivo vero e proprio. Chiuso il 22 marzo e riaperto il 2 maggio, ora la struttura è nuovamente nel caos. Nonostante le promesse dell'amministratore unico della Wellness Sport Life, Vincenzo Serraiocco, che gestisce l'impianto, il sindaco Pupillo ha perso la pazienza e lancia l'ultimatum. Sì, molto irritato con la Wellness che gestisce le gemelle, le piscine le gemelle, per un comportamento che sotto l'aspetto amministrativo è veramente da criticare, ma anche sotto l'aspetto morale etico nei confronti degli abbonati, degli utenti, che magari hanno pagato per un anno l'accesso in piscina e che ora si vedono privati di un servizio. Le promesse fatte sui giornali di riapertura, invece oggi noi costatiamo il taglio di nuovo delle forniture. Quindi tutto questo rivela un comportamento veramente disdicevole. Noi siamo passati dalle parole ai fatti, già abbiamo inviato un paio di lettere per ricordare gli aspetti della concessione, il rispetto delle norme. Non avendo avuto risposta abbiamo già combinato una sanzione amministrativa pecuniaria e lo faremo dentro questa settimana, dopodiché interverremo con gli articoli della concessione che ci permettono di recuperare questa struttura e quindi di interrompere i rapporti con la Wellness. Ma lei il gestore lo ha mai incontrato? Io l'ho incontrato una volta e mi ha fatto delle promesse, poi ci siamo risentiti, ma poi è sparito e ho sentito le sue dichiarazioni solo sui giornali. Sono 2.300 gli iscritti, diverse le associazioni che utilizzano questa struttura. L'augurio di Umberto Pasquini, storico collaboratore delle piscine Le Gemelle. Un augurio è certamente quello di ritornare all'attività lavorativa da parte dei 50 dipendenti e alla piena fruibilità da parte degli oltre 2.300 abbonati alla struttura.